12 incidenti in 5 mesi, 2 nell'arco di 24 ore solo la scorsa settimana. Sono i numeri dei sinistri stradali, gli incroci fra via Lazzerini e via Pacchiani e via della Liberazione che hanno spinto nuovamente i residenti a protestare per chiedere al Comune di garantire una maggiore sicurezza lungo queste strade. Al centro delle polemiche è finita la segnaletica, per lo più sbiadita o nascosta dietro altri cartelli. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un incidente fra due automobili che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e di più ambulanze. Tutta colpa del mancato rispetto dello stop su via Pacchiani. Secondo i residenti la segnaletica non è ben visibile e così molti automobilisti non rispettano la precedenza rischiando di causare continuamente incidenti. La velocità da chi viene da via Lazzerini è abbastanza forte e qui non rispettando lo stop perché non è praticamente visibile vanno a diritto. Per cui gli impatti sono piuttosto forti anche, per cui la scorsa settimana due a distanza di neanche 24 ore cominciano veramente a preoccuparci. Soprattutto per noi che andiamo anche a piedi, la sicurezza in questo caso proprio occorre, quindi una segnaletica molto più visibile. Non è la prima volta che i residenti di via Pacchiani e via Lazzerini protestano per la mancata sicurezza stradale nelle vie del quartiere. Due anni fa l'unico obiettivo raggiunto fu quello di rendere un po' più visibile un divieto d'accesso per frenare il fenomeno degli automobilisti che vanno contro mano. Ora invece vogliono un intervento risolutivo rendendo ben visibili gli stop e le precedenze sia di giorno che di notte. Le risposte le sono state abbastanza blande. Poi come vedete con i vostri occhi stride molto anche la segnaletica per la strada. La segnaletica stradale è ormai scolorita, invece la segnaletica blu dei parcheggi è abbastanza visibilissima. Quindi non so che si stia aspettando perché a rendere molto più visibile già la segnaletica presente ma soprattutto a porne dell'altra. State anche pensando a raccolta firme se qualcosa non si avesse smuotere? Eventualmente sì, però in uno stato di diritto si penserebbe bene che chi deve avere venga sul posto e risolva la questione.